Giovedì 12 novembre ci troviamo a Torino per un workshop d'infoprogetto organizzato da Action Group Editor in collaborazione con l'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino. Il titolo del convegno contract, i luoghi del consumo pubblici e privati, un'occasione anche per parlare con le tante aziende protagoniste di questo convegno di quali sono le novità presenti sul mercato ma anche con tutti i relatori istituzionali delle novità e dei progetti in corso d'opera. Allora vediamo questo servizio che abbiamo realizzato. È andata molto bene come anche le due precedenti edizioni, ci siamo permessi di ringraziare quelli che sono stati partecipanti che abbiamo rivisto in questa occasione e che hanno avuto il piacere di venirci a trovare al desk anche per informarci dei progetti realizzati con il nostro materiale e per raccogliere ulteriori notizie dell'implementazione della gamma sia cromatica che di superficie. Di questo ci ha fatto particolarmente piacere perché come abbiamo ripetuto più volte il nostro intento è proprio quello di instaurare un rapporto sempre più di partnership con il mondo dell'architettura e del design e avere un dialogo molto molto aperto con il professionista. L'apertura della giornata è stato prima di tutto un ringraziamento per chi ha avuto fiducia in quello che noi promettevamo e un'apertura invece di informazione che ancora non era ancora a conoscenza dell'esistenza di questo nuovo materiale.